Denunciare conviene perché lo Stato, io sono la prova che lo Stato c'è. Dopo anni di paura, Diego Daniele ha potuto riaprire il suo panificio a Canicattin, promiccidi aggrigento, un banco pieno di pizze, pagnotte e l'aria di nuovo profumata di pane, dopo tre anni di chiusura. Stiamo cercando il primo giorno di apertura di rimettere in moto la nostra azienda in un'economia legale grazie ai fonti dello Stato, grazie alle vicinanze dello Stato. Finito in mano agli estorsori, Daniele tre anni fa era stato costretto a chiudere. Non sapeva più come fare ad uscire da quell'incubo fatto di minacce, violenze e intimidazioni, fino a quando ha trovato il coraggio di denunciare i suoi estorsori. Ha chiesto aiuto e grazie alla prefettura di aggrigento e al comitato di vigilanza del Ministero dell'Interno è stato messo sotto protezione, sostenuto e guidato fino a questa ripartenza. Grazie al fondo di solidarietà per gli oppressi da racchiti d'usura, gli è stato concesso un mutuo a tasso zero ed ha riaperto il suo panificio. Denunciare conviene perché prima di tutto io dico che è un dovere civico, un dovere morale, ma ancora di più perché nel momento in cui denuncio mi affranco dalla criminalità organizzata e quindi da un circuito illegale. Oltre a Daniele, altre 16 imprenditori sono riusciti a liberarsi dagli usurai, riconquistando la propria dignità. Oggi una delle prime vittime accompagnate su questo territorio, che sono all'incirca 16, ha realizzato una bella attività commerciale ex novo e questo grazie a quelli che sono gli aiuti dello Stato e del Ministero degli Interni.